Vedremo adesso due effetti particolarmente importanti, e cioè l'effetto fotoelettrico e l'effetto compton, che diciamo che sono la logica a prosecuzione del discorso cominciato sulla luce, inerente alla luce, e che aveva portato alla conclusione che la luce fosse un fenomeno essenzialmente ondulatorio. Per capire questi effetti, due particolari effetti in particolare, per capire l'effetto fotoelettrico, sfrutteremo un'analogia. In questa analogia noi immaginiamo di avere una macchina distributrice di lattine, che ovviamente distribuisce lattine a seconda delle monete che vengono inserite al suo interno. La macchina corrisponde al metallo, la lattina corrisponde all'elettrone, la moneta corrisponde alla luce monocromatica. Nell'analogia l'aspetto energetico è particolarmente importante, perciò viene sottolineato che il valore economico contenuto dentro un portamonete corrisponde all'energia posseduta dalla luce monocromatica, il numero di monete contenute corrisponde all'intensità dell'onda associata alla luce monocromatica, intensità o ampiezza. Nel seguito del video si userà la parola ampiezza, ma sono due termini, due sinonimi. Il valore di una specifica moneta corrisponde alla lunghezza d'onda della luce monocromatica, io uso spesso il termine lunghezza d'onda, ma si può parlare anche di frequenza, che è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Il costo di una lattina corrisponde al lavoro di estrazione di un elettrone dal metallo. Possiamo vedere adesso, in tutto questo video, in questa simulazione, noi avremo l'utilizzo di pedici associate dei parametri. Tali pedici crescenti rappresentano situazioni con energia ordinatamente crescente. Quindi, per esempio, λ0, λ1, λ2 significa lunghezze d'onda che sono associate a energie ordinatamente crescenti. Stiamo attenti però che, perché la luce abbia un'energia crescente solo lavorando sulla lunghezza d'onda, automaticamente la lunghezza d'onda deve diventare sempre più piccola. La lunghezza d'onda e l'energia sono, esattamente come la frequenza, inversamente proporzionali. Adesso, se abbiamo capito questo discorso, cominciamo a vedere la prima... cominciamo a affrontare il discorso, in questa... la prima figura. In questa figura, noi vediamo... che cosa? Vediamo... una luce con due ampiezze differenti. La luce è la stessa lunghezza d'onda, lo capite anche osservando queste due sbarre. Avendo la stessa lunghezza d'onda, viene associata a questo tipo di luce, viene associata a una moneta ben precisa, la moneta da 20 centesimi. Il colore della luce dovrebbe essere identico. Qui si utilizzano due colori, semplicemente per evitare confusione. Il colore blu è associato alla lunghezza d'onda, all'onda che ha una intensità minore, il colore rosso all'onda che ha un'intensità maggiore. Il fatto che la lunghezza d'onda sia la stessa, viene rappresentato da questa parte, in quanto la lettera della lunghezza d'onda è lambda ed è associata allo stesso numero, cioè lambda 0, il fatto che l'intensità o l'ampiezza sia differente, viene associato col pedice 1 e 5. Vedete, la blu ha un'ampiezza A1, la luce rossa, stessa lunghezza d'onda, ma intensità o ampiezza superiore, viene associata con la lettera, con il numero 5. Perché 5? Perché in questa analogia l'intensità minore corrisponde a una moneta, invece l'intensità maggiore, per esempio, questa rossa viene associata a 5 monete, ovviamente dello stesso valore della moneta da 20 centesimi, come nella figura si vede. Chiaramente 5 monete da 20 centesimi hanno lo stesso valore di 1 euro. La lunghezza d'onda è differente, questa lunghezza d'onda fa sì che questa luce sia più energetica, come fanno le due luci ad avere la stessa energia, viene compensata la differente lunghezza d'onda con una maggiore intensità. Quindi qui avete più monete di basso valore, qui ne avete solo una con un valore economico superiore, però il valore economico è lo stesso, tradotto nell'analogia l'energia posseduta dai due tipi di luce è lo stesso. Perché c'è scritto no e perché c'è scritto sì? Il motivo è semplice, perché anche se i valori sono gli stessi economici, l'effetto dal punto di vista energie, anche se le energie sono le stesse, dal punto di vista del risultato dell'effetto fotolettrico, i risultati sono decisamente differenti. Vedete che qui vengono rappresentati, tanto per intenderci, il fatto che le intensità siano crescenti, le intensità crescenti, corrispondono a pedici esattamente, ordinatamente crescenti. se noi sfruttiamo un altro aspetto, vediamo completamente di capire questa analogia, vedete che qui avete una piramide di monete, un triangolo di monete, vedete su ciascuna riga c'è il valore economico corrispondente di un euro, se le monete sono di basso valore ci vogliono più monete, 10 monete da 10 centesimi, qui ne bastano di meno 5 monete da 20 centesimi, 2 da 50 e infine un'unica moneta da un euro. Il valore economico quindi potete vedere che su ciascuna riga è esattamente uguale. Vediamo l'analogia, qui che cosa abbiamo? 5 tipi di luce, il valore, se volete, la lunghezza d'onda è ordinatamente crescente, se, morendosi dall'alto verso il basso, quindi l'energia tenderebbe a diminuire, affinché questa luce scadente abbia la stessa energia di questa luce invece più energetica, che cosa devo compensare? Devo aumentare l'ampiezza, cioè l'intensità. E vedete che l'intensità gradatamente dall'alto verso il basso aumenta. Quindi, spero che sia chiaro, l'associazione lunghezza d'onda e intensità, che sia la lunghezza d'onda che l'intensità agiscono sull'energia che la luce si porta dietro, anche se in modo differente. A questo punto, possiamo applicare, effettuare il primo esperimento. Nel primo esperimento, noi immaginiamo di avere una macchina distributrice di lattine, ci chiediamo qual è la moneta che fa staccare la lattina, proviamo ordinatamente questo gruppo di monete, sottolineo che questo gruppo di monete, quando viene infilata una moneta e non si stacca la lattina, viene schiacciato il pulsante di restituzione del resto, perché noi non vogliamo che il valore economico inserito dentro la macchina si sommi e tenda ad aumentare. Allora, vedete che queste tre monete non producono nessun effetto, la prima moneta che produce l'effetto è la moneta da un euro, svolgiamo l'analogia, abbiamo cinque tipi di luce con la stessa intensità a uno, lunghezza d'onda rigorosamente decrescente, quindi energia crescente spostandosi dall'alto verso il basso, queste tre luci non riescono a produrre nessun effetto e lo vedremo subito schematizzato nell'immagine sottostante, la primo tipo di luce che riesce a produrre questo effetto è la lunghezza d'onda che abbiamo definito come lambda 1 e poi un secondo tempo vedremo che cosa succede mettendo della luce ancora più energetica. Vediamo l'effetto nella figura esplicitamente, quindi qui abbiamo nella parte degli appunti la descrizione di tutto quello che io ho già detto e vediamo la figura che descrive il processo. Mandiamo questi quattro tipi di luce, la luce più energetica per adesso non è stata inserita, vediamo che questi tre tipi di luce non producono nessun effetto, l'unico tipo di luce che produce l'effetto è l'ultimo, l'effetto viene evidenziato da questa parte, in questa parte noi abbiamo il metallo, all'interno del metallo ci sono degli elettroni che sono legati al metallo e potremmo immaginare tale legame come una molla, è un modello molto semplice ma fondamentalmente corretto, la luce arriva, possiede l'energia sufficiente perché colpendo l'elettrone riesca a rompere la molla e quindi l'elettrone si allontanerà con velocità di 1. se abbiamo capito questo adesso procediamo alla seconda par agli altri esperimenti che possiamo fare per capire questo effetto va bene? naturalmente dicevo questo è l'effetto l'effetto fotolettrico è quello su cui si basano tutti i cancelli automatici se noi ci poniamo nella traiettoria del cancello automaticamente il cancello invece di chiudersi comincia a aprire o anche il suono di un allarme il suono di un antifurto quando una persona che non deve trovarsi in una certa zona invece si trova e quindi fa scattare l'antifurto perché avviene questo? questi sono dettagli di elettronica ma mi sembra chiaro che l'elettrone staccato dal metallo possa svolgere agire su circuiti che fanno suonare campanelli invertire l'ordine di movimento del cancello e via dicendo esaminiamo adesso la seconda parte un secondo tipo di esperimento e cioè chiediamoci che cosa succede quando noi mandiamo la luce più energetica con questa lunghezza d'onda ipotizziamo che la lunghezza d'onda questa possieda energia doppia rispetto alla lunghezza d'onda che aveva staccato un elettrone l'intensità delle due luci sono ricordosamente le stesse nell'analogia che cosa significa ah scusate questa questa parte viene esaminata dopo vediamo ancora l'esperimento completamente che cosa abbiamo visto che la moneta da un euro fa staccare un elettrone e in questo vedete che c'è l'effetto prodotto da se noi mettiamo cinque monete cioè da 20 centesimi anche se alcune macchine permettono quest'operazione regalano la lattina la nostra macchina associata al fenomeno fotoelettrico non regala la lattina che cosa vuol dire che anche se questa luce ha la stessa energia di questa luce questa blu che cosa anche se l'energia è la stessa abbiamo compensato la maggiore lunghezza d'onda con la maggiore intensità l'elettrone non si stacca da questo punto di vista perché è stata messa la luce più energetica quella che è stata indicata con la lunghezza d'onda lambda 2 solo per introdurre l'esperimento successivo che sarà il seguente vediamo qui che abbiamo introdotto questa lunghezza d'onda lambda 1 abbiamo visto che si è staccato un elettrone aumentiamo l'intensità raddoppiamo l'intensità che cosa succede come avviene anche nelle comuni macchine distributrici di lattine si staccano due lattine ma la differenza rispetto alle comuni macchine distributrici di lattine da questo punto di vista l'analogia qui non funziona più se noi infiliamo la luce se noi infiliamo la moneta da 2 euro non si staccano due lattine come ci aspetteremmo ma si stacca un'unica lattina se volete per capire l'effetto che cosa succede la lattina viene scagliata più lontano quindi vedete che questa luce violetta che possiede il doppio di questa lunghezza d'onda minore rispetto a questa luce blu la luce blu ha energia sufficiente per staccare un elettrone questa ha energia sufficiente per staccare due elettroni però questa luce violetta non stacca due elettroni ma stacca la lattina semplicemente allontanandola mandandola più lontano questo può essere vediamo ancora di capire un terzo esperimento che cosa è successo anzi prima vediamo il disegno che rappresenta questo effetto lunghezza d'onda lambda 1 e intensità 1 abbiamo visto che si stacca un elettrone stessa intensità ma luce più violetta si stacca sempre un elettrone ma con velocità maggiore allora invece vedremo subito se noi vogliamo staccare più elettroni che cosa dobbiamo fare non dobbiamo agire sull'energia dal punto di vista della lunghezza d'onda ma dobbiamo agire sull'energia dal punto di vista della intensità o ampiezza vedete qui ho tenuto fissa la lunghezza d'onda lambda 1 e lambda 1 però qui abbiamo un'onda con intensità 1 qui un'intensità doppia a 2 questa abbiamo visto che è la prima luce che riesce a staccare un elettrone che si allontana con velocità v1 se noi mandiamo luce lambda 1 con intensità o ampiezza doppia si staccheranno due elettroni sempre con velocità v1 quindi abbiamo potuto capire il ruolo differente svolto dalle lunghezze d'onda il ruolo svolto dalle lunghezze d'onda è dall'intensità o ampiezza del raggio di luce monocromatica l'intensità dell'onda determina il numero di elettroni coinvolti dalla luce la lunghezza d'onda invece fissa l'energia che viene fornita a ciascun elettrone se non è sufficiente a rompere il legame che trattiene l'elettrone al metallo fa semplicemente aumentare la temperatura del pezzo metallico se il superiore ha un valore di soglia il valore di soglia dipenderà dalla forza ovviamente della molla che cosa succederà si staccherà se è superiore a dicevo a questo valore di soglia collegato alla forza con cui l'elettrone è trattenuto dentro il metallo l'elettrone si stacca allontanandosi con una quantità di energia cinetica pare alla differenza tra l'energia ceduta dalla luce e quella necessaria per rompere il legame con il metallo tutto questo è riassunto brevemente in questo schema vedete bene lunghezza d'onda lambda 0 non si stacca nessun elettrone lunghezza lambda 1 è la prima che permette di staccare l'elettrone che si allontanerà con velocità v1 se io invece mettessi lunghezza d'onda superiore l'elettrone si staccherà con velocità v2 e se avessi lunghezza d'onda n si staccherà con velocità vn il numero di elettroni da che cosa dipende invece dalla ampiezza per staccare un elettrone avrò bisogno dall'ampiezza o dall'intensità questo valore dell'intensità o dell'ampiezza per staccare due elettroni avrò bisogno di a2 per staccare n elettroni avrò bisogno di ampiezza n attraverso questo specchietto noi potremmo anche introdurre una simulazione un'ottima simulazione che è stata fatta da Wolfram dall'ottimo sperimentatore che si chiama Blinder come vedremo in questa simulazione vediamola subito voi avete prima di tutto la possibilità di cambiare dei metalli poi avete la possibilità di cambiare la lunghezza d'onda e l'intensità della luce fate attenzione anche a questo amperometro che si è messo alla base attenzione anche perché voi alla base avete questo amperometro e lo zero della scala si trova da questa parte prendiamo la lunghezza d'onda e aumentiamo la lunghezza d'onda vedete che il colore è cambiato ci siamo spostati dal verde sul rosso poi se ci spostiamo oltre andremo nell'infrarosso vedete che gli elettroni non si staccano vedete che l'amperometro non segna segna zero perché non si staccano degli elettroni se noi a questo punto spostiamo e prendiamo luce più energetica che cosa succede a un certo punto gli elettroni cominciano a staccarsi se noi aumentiamo l'intensità della luce lo vedete bene in questa parte vedete che il colore rimane lo stesso ma rimane più intenso e automaticamente il numero di elettroni che si stacca cresce come possiamo notare dal fatto che se la lancetta dell'amperometro si è spostata verso valori superiori chiaramente se io andassi al massimo della scala la lancetta segnerà il massimo di elettroni che si staccano da questo elettrodo per raggiungere l'altro elettrodo se no l'unico aspetto che non viene sottolineato in questa simulazione qual è se noi aumentiamo la lunghezza d'onda quindi mandiamo luce più energetica vedete siamo sul violetto e qui se siamo addirittura sull'ultravioletto e quindi luce che non è visibile che cosa succede questa simulazione non lo mostra in pratica il numero di elettroni che si stacca dovrebbe essere sempre lo stesso ma questi elettroni che cosa fanno si muovono più velocemente come abbiamo visto nello schema precedentemente utilizzato naturalmente il fatto che si stacchino degli elettroni abbiamo preso la prima luce che permette agli elettroni di staccarsi corrisponde a questo valore di lunghezza d'onda se noi cambiamo simon metallo per esempio prendessimo il ferro il tipo di legame che trattiene il ferro con i suoi elettroni è differente questo è un legame più forte questo tipo di luce non basta per staccare gli elettroni avrò bisogno di una lunghezza d'onda più bassa cioè più energia per riuscire a staccare gli elettroni vedete che per il metallo addirittura devo andare nella zona dell'ultravioletto come vi dicevo già questa simulazione quest'ottima simulazione è stata fatta dall'ottimo signore Blinder ne ha fatto come abbiamo già detto moltissime di questo tipo a questo punto dovremmo chiarire l'interpretazione di questo esperimento l'interpretazione dell'esperimento prima di tutto concludiamo attraverso questa simulazione scusate prima di entrare nell'interpretazione in questa simulazione possiamo vedere quali sono i metalli che trattengono di più gli elettroni e quelli che trattengono quindi fa una scaletta di come gli elettroni sono legati nei metalli e possiamo vedere subito come ci aspettavamo in base al potere di ionizzazione che gli elettroni trattenuti di meno sono quelli che fanno parte dei metalli alcalini quindi metalli alcalino terrosi e poi gli altri metalli hanno energie di legame con gli elettroni man mano che crescono energie che crescono e quindi necessitano di luci sempre più energetiche per riuscire a togliere gli elettroni quindi qui abbiamo i legami più deboli dei metalli con gli elettroni da questa parte invece gli legami con degli elettroni con il proprio metallo crescono naturalmente questa zona viene esclusa che è la zona dei non metalli da questo discorso adesso vediamo l'interpretazione ricordo che questa interpretazione fu data da Einstein e gli permise nel 1921 di avere il premio Nobel quindi Einstein non ottenne il premio Nobel per la teoria della relatività senza altro più importante ma per un ragionamento geniale ma non così importante come la teoria della relatività per capire questo tipo di ragionamento ricordo che questo ragionamento molto geniale consiste nel saper applicare un'idea semplice in un ambito diverso da quella dalla quale è stata generata e quindi vediamo un ragionamento che perfino un bassotto appartenente alla banda bassotti dedita ai furti potrebbe capire se noi abbiamo una l'immagine del bassotto lo possiamo capire qua questo malandrino si nasconde dietro un angolo di una strada e colpisce un malcapitato con un sacchetto pieno di sabbia per portargli i soldi per portargli via i soldi ha imparato a muovere il braccio con una certa energia per riuscire a stordire la persona e sa che se lui non avesse la sabbia avvolta dentro il sacchetto anche se l'energia che lui imprime nel movimento del bacio è la stessa l'effetto chiaramente non è identico perfino quindi un delinquente riesce a capire questo riesce a fare questo ragionamento infatti vedete se non avessi avuto il sacchetto non avrei avuto non avrei potuto fare questa pessima azione ma noi spostiamoci dal Bronx al mondo della fisica e vediamo un'affermazione molto forte ed è la prima parte del ragionamento cioè la luce può essere vista come se fosse formata da particelle chiamate fotoni i fotoni della luce ultravioletta hanno più energia dei fotoni della luce visibile comunque come accade per le monete aumentando il numero di fotoni di luce visibile di luce visibile si può avere un'energia totale uguale a quella di un solo fotone ultravioletto tanti fotoni di luce verde per esempio possono avere un'energia totale uguale a quella di un unico fotone di luce ultravioletta ma anche se l'energia totale è la stessa per poter staccare un elettrone dal metallo bisogna che l'energia sia compattata in un unico blocco cioè si trovi localizzata in un unico fotone possiamo capire questo attraverso questo grafico vedete luce verde poca energetica fotone poco energetico lunghezza d'onda maggiore energia minore stessa intensità perché la distanza tra massimo e minimo è uguale da questa parte della figura e da quest'altra qui avete luce ultravioletta stessa intensità ma lunghezza d'onda minore quindi questa luce ha più energia io posso aumentare l'intensità di questa luce avere quindi tanti fotoni verdi energetici meno energetici ma tanti fotoni verdi hanno la stessa energia di quest'unico fotone però anche se e quindi vedete che stavolta l'energia è la stessa ma l'intensità qui è maggiore mentre qui l'intensità è chiaramente minore l'energia è la stessa ma questo fotone riesce a staccare l'elettrone questo insieme di fotoni non riesce a fare la stessa cosa come possiamo ho detto questo ragionamento è molto semplice ma perché non è stato preso in considerazione dagli altri dal mondo scientifico perché nel dibattito sulla natura della luce Huygens era riuscito a capire rispetto a Newton che la luce era fatta di onde l'abbiamo visto anche noi nel video prima esaminando quello che succedeva quando noi utilizzavamo la diffrazione quindi sembra che Einstein sia tornato indietro rispetto a quello che era stato fissato con Huygens ma in realtà Huygens ha avuto cioè scusate in realtà Newton ha avuto un'idea decisamente differente e cioè la luce possiede contemporaneamente due nature e a seconda dell'esprimimento a cui è sottoposto i risultati si possono comprendere con una teoria o l'altra la prima volta nel campo della fisica che si classifica un fenomeno con due possibili opzioni quando la luce incontra delle fenditure quello che succede si può comprendere interpretandola come un fenomeno ondulatorio l'abbiamo visto cioè la diffrazione quando invece colpisce un metallo si può spiegare quello che succede con immaginando una natura corpuscolare effetto fotolettico non facciamoci illusione cioè non pensate che la matematica con cui Newton con cui Einstein ha scritto l'articolo sia particolarmente pesante sono calcoli per di più non semplici non difficili la genialità dell'articolo consiste in un avverbio l'avverbio contemporaneamente per capire come questo effetto fotoelettrico abbia sconvolto il mondo della fisica sfruttiamo un'ultima analogia pensiamo a una guida turistica assunta da un'agenzia specializzata con turisti inglesi o francesi tale guida non si regra neanche più nella sede per ricevere disposizione a Tenden prendiamo per esempio Asti nella piazza San Secondo l'arrivo dei turisti per cominciare il giro turistico quindi appena li vede comincia a parlare con una lingua per esempio l'inglese se continuano a rispondono con la stessa lingua chiaramente sono inglesi e va tutto bene se invece dimostrano di non capirla passa al francese e continuerà il giro turistico utilizzando il francese poi un giorno una sorpresa arrivano i canadesi che parlano un po' di inglese e un po' di francese una lingua che possiede una nazione che possiede due lingue questo punto va in panne perché si chiede ma sono inglesi o sono francesi in realtà non sono nell'uno nell'altro ma sono canadesi lascio a voi il compito di associare inglese e francese a corpuscolo a corpuscolare e ondulatorio per completare l'analisi della luce è utile anche discutere e vedere l'effetto conto tale effetto è stato seguente all'effetto fotoelettrico e se vogliamo dice le stesse cose in maniera diversa una figura è utilissima per capire tale fenomeno solo una piccola osservazione in questa figura non terremo conto del principio di Heisenberg e del fatto che secondo tale principio nella meccanica quantistica non può esistere il concetto di particella ferma perché una particella ferma avrebbe la possibilità di fornire contemporaneamente posizione e velocità ma questo abbiamo detto che non è possibile è vietato dal principio di Heisenberg anche se noi facciamo finta che non valga l'effetto conto viene descritto abbastanza correttamente e semplicemente la trattazione viene più veloce avviene più facile e veloce per capire l'effetto conto valutiamo la seguente figura e immaginiamo di avere nella prima parte della figura una palla da bigliardo in movimento che sta per colpirne un'altra ferma e immaginiamo dopo l'urto le due palle che si allontanano dopo essersi scambiati un po' di energia cinetica la figura che mostra tale effetto è la seguente la potete vedere esattamente questa questa è la palla da bigliardo in movimento possiede una certa velocità vi ricordo che avendo una certa velocità possiede una grandezza vettoriale che si chiama quantità di moto data dal prodotto massa per velocità la grandezza vettoriale viene rappresentata con questa freccia dopo l'urto con la particella ferma tutte e due sono in movimento si allontanano ognuno ogni palla da bigliardo ha la sua direzione la sua quantità di moto rappresentata con queste due frecce vi ricordo che la quantità di moto oltre che l'energia si conservano quindi la somma delle quantità di moto prima che coincide con quest'unica freccia perché la seconda palla essendo ferma la quantità di moto nulla deve essere uguale alla somma delle due quantità di moto dopo somma vettoriale come vedete benissimo in questa parte della figura se adesso noi abbiamo un elettone che come ho già detto immaginiamo fermo anche se il principio di Heisenberg vieterebbe questo concetto e immaginiamo che arrivi della luce quando la luce colpisce questo elettrone l'elettrone rimbalza in questa direzione e la luce invece viene la parola giusta è scatterata in quest'altra direzione che cosa possiamo dire possiamo dire se noi osserviamo le traiettorie c'è una perfetta analogia tra i due disegni di sotto e i due disegni tra i due disegni di sotto e i due disegni sottostanti c'è però una differenza e cioè che la luce deve avere nel vuoto sempre la stessa velocità e invece questa particella quando si è scontrata con quest'altra particella automaticamente rallenta perché un po' della sua energia cinetica è stata regalata alla seconda particella alla seconda palla da biliardo invece in questo caso l'onda la luce arriva e deve avere dopo la stessa velocità perché è un principio sacrosanto della fisica che la luce viaggi sempre alla stessa velocità ma deve aver perso energia perché un po' di energia viene trasferita all'elettrone e allora che cosa fa la luce? la luce con meno energia deve aumentare la sua lunghezza d'onda aumentare la sua lunghezza d'onda significa come si può anche vedere in questa immagine cambiare colore quindi osserviamo questi due riquadri questi due riquadri c'è contemporaneamente la natura corpuscolare e la natura ondulatoria della luce la natura corpuscolare perché se noi esaminiamo la traiettoria della luce dell'elettrone prima e dopo le traiettorie sono molto simili a quello che avviene quando si scontrano due palle da biliardo se guardiamo invece la diminuzione di energia e il conseguente aumento di lunghezza d'onda noi che cosa notiamo? la natura ondulatoria quindi quello che era stato accennato prima quando si parlava del modello dell'effetto fotoelettrico e del risultato brillante tirato fuori da Einstein mi è sfuggito prima Newton invece la parola giusta è Einstein che ha capito questo risultato brillante due nature possibili contemporaneamente allora noi queste due nature le possiamo tranquillamente vedere in questi due riquadri la natura ondulatoria osservando il colore che cambia la natura corpuscolare per esempio esaminando le traiettorie un'ultima considerazione importantissima con le particelle si è osservata la quantità di moto e un sacco di leggi a cui la quantità di moto obbedisce la quantità di moto per le particelle è stata calcolata ho già detto che è una grandezza vettoriale ed è stata calcolata facendo il prodotto della massa per la velocità uno scalare per un vettore nel caso della luce esiste una la massa abbiamo detto che la natura corpuscolare implica che ci siano dei fotoni i fotoni hanno massa no hanno massa esattamente uguale a zero quindi può esistere la quantità di moto la quantità di moto deve esistere perché abbiamo detto che è tipica della natura corpuscolare però anche se esiste la quantità di moto non esiste la massa perciò ci deve essere un'altra formula che fornisce la quantità di moto e tale formula tipica delle onde tipica della luce è la seguente in cui voi avete indicato il valore P che nel caso delle masse si calcola facendo massa per velocità è uguale a che cosa nel caso della luce alla costante di Planck costante fondamentale della meccanica quantistica diviso la lunghezza d'onda quindi ricapitolando noi abbiamo ottenuto questa importantissima formula che rappresenta il ponte tra la natura ondulatoria della luce che si trova da questa parte della formula e la natura corpuscolare che è rappresentata dal vettore P che esiste nel caso di un raggio di luce anche se la luce ha massa come abbiamo già visto dei fotoni uguali a zero quindi attraverso questo noi abbiamo ottenuto un risultato fondamentale e cioè che sia attraverso l'effetto fotoelettico sia attraverso l'effetto contro che la luce possiede contemporaneamente due nature a seconda dell'esperimento rivela una natura oppure l'altra oppure rivela tutte e due le nature come abbiamo visto nell'effetto Compton ma in aspetti diversi come abbiamo visto traiettoria natura corpuscolare diminuzione di energia natura ondulatoria queste due nature che sono state scoperte esistere contemporaneamente nel caso della luce vi ricordo che questa affermazione ha fatto avere sia a Compton sia ad Einstein il Nobel perché non sono state scoperte contemporaneamente per un motivo molto semplice e cioè la prima natura la natura ondulatoria è stata scoperta attraverso esperimenti di ottica uno dei quali l'abbiamo visto abbastanza in modo approfondito cioè la diffrazione alte diffrazioni affini tali esperimenti richiedono una tecnologia molto semplice l'effetto fotolettico e l'effetto conto oggi l'effetto fotolettico è un effetto che si realizza dentro banalmente con i cancelli che si aprono automaticamente e via dicendo ma chiaramente la tecnologia per avere l'effetto fotolettico o per verificare l'effetto conto è decisamente una tecnologia più sofisticata e questo è il motivo per cui la natura ondulatore è stata scoperta prima della luce la natura corpuscolare è stata scoperta in un secondo tempo vedremo subito che quest'idea della doppia natura della luce è stata perché se vogliamo una divagazione perché a noi interessa capire il comportamento degli atomi è stata utilizzata brillantemente da De Broglie ma questo direbbe Kipling è un'altra storia è un'altra storia